Le opere di 42 artisti italiani e stranieri sono in mostra nella sala del San Leone nell'esposizione battezzata Art Orient Express che l'associazione Caleidos Arte di Carrara ha realizzato sulla scorta del leggendario treno che a fine ottocento collegava Parigi all'antica Costantinopoli. L'esposizione aperto al pubblico sabato pomeriggio alla presenza della presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta Paola Brizolari, del curatore Marco Gianfranceschi e di molti tra gli autori in esposizione. Il racconto coniuga tendenze differenti nel comune denominatore dell'arte e dell'internazionalità che sono anche la cifra identitaria della città di Pietrasanta. Da sculture in marmo a composizioni con materiale di riciclo, da pitture su tela a installazioni luminose e cangianti il progetto apre un percorso culturale che pone fianco a fianco come passeggeri su di un treno in viaggio personalità e tecniche diverse, nate e cresciute tra Oriente ed Occidente.